Benvenuti nel mondo di Tudor. Tudor è un marchio di orologi di lusso svizzero fondato nel 1926 da Hans Wilsdorf, il fondatore anche di Rolex. Il nome e il logo Tudor furono scelti per evocare la dinastia della famiglia Tudor d'Inghilterra. Hans Wilsdorf fondò Tudor con l'obiettivo di creare un'azienda che avesse la stessa affidabilità del marchio Rolex, ma ad un prezzo più accessibile. Con gli anni Tudor riuscì ad emergere permettendogli di staccarsi da Rolex grazie alla qualità incredibile dei suoi orologi. Sono molte le collezioni iconiche di Tudor. Il Tudor Black Bay, ad esempio, è uno tra i modelli più iconici del marchio. Risalente agli anni 50, il Black Bay è un orologio subacqueo che presenta una lunetta girevole unidirezionale, una corona a vite e un movimento al quarzo svizzero di alta precisione. Col passare degli anni questo incredibile segnatempo si è rinnovato con l'aggiunta di ulteriori complicazioni, da quella cronografica a quella GMT. Il Pelagos, invece, fu il modello che fece emergere il marchio Tudor, un orologio subacqueo dalle caratteristiche eccezionali. Presenta una cassa in titanio resistente all'acqua fino a 500 metri di profondità, una lunetta monodirezionale, una valvola di fuoriuscita dell'elio e un quadrante ad alta visibilità con le inconfondibili sfere snowflake della Tudor. Tudor ha collaborato con importanti organizzazioni sportive come la Federazione Internazionale di Motociclismo e la Federazione Francese di Tennis, producendo orologi dedicati a questi sport. Ma non solo, Tudor ha anche collaborato con la popolare squadra di Rugby All Blacks, il famoso ciclista Fabian Cancellara e il popolare calciatore David Beckham. Tudor utilizza solo materiali di alta qualità nella produzione dei suoi orologi, come l'acciaio inossidabile, il titanio e il cristallo di zaffiro. Inoltre, ogni orologio Tudor è sottoposto a rigorosi test di controllo di qualità per garantire la massima precisione e affidabilità. Insomma Tudor è un marchio che è nato per essere una versione più economica di Rolex, ma che poi è riuscito ad emergere arrivando ad essere un marchio di grande prestigio nel mondo dell'orologeria. I suoi orologi sono riusciti a colpire i collezionisti e appassionati di tutto il mondo. I suoi orologi sono riusciti a colpire i collezionisti e appassionati di tutto il mondo.